Io non vorrei che ci fosse una interpretazione sbagliata, che noi rifiutiamo con sdegno, che la questione che noi abbiamo posto è una questione di postulanti e che possono pensare di trattare la campagna così. Noi abbiamo posto un problema di principio e di valori, che è quello del fondo di garanzia. Non abbiamo bisogno di avere un fondo straordinario come è stato poi fatto, non siamo dei postulanti. Vogliamo entrare in un circuito virtuoso, quindi noi vogliamo affermare un principio, che è quello che anche le regioni, così come i comuni hanno avuto le province, abbiano il fondo di rotazione. Siamo interessati a questo, non a mance, quindi questa roba non la vogliamo accettare, ne discuteremo in sede di conferenza dei presidenti e la cosa che mi meraviglia ancora di più, intanto voglio approfitto per ringraziare i parlamentari, tutti, di tutti i partiti, perché hanno fatto un gran lavoro e quindi viene dato atto. Non hanno raggiunto l'obiettivo perché, per una assurda interpretazione o volontà del governo, ma anche se io non voglio in questo individuare il governo tutto, ma insomma di alcuni uffici del governo, che non hanno capito che quello che chiediamo noi è una visura virtuosa, che appunto è un fondo di rotazione. Si era trovata una copertura economica per avviare questo fondo, 50 milioni di euro, per noi abbiamo detto va bene, bastano come inizio, attiviamo il fondo, ma aver lasciato i 50 milioni di euro, che era la cosa più difficile da trovare, e poi togliere il fondo nella notte, riformulando l'emendamento e togliere la cosa più importante, che era il fondo di rotazione, lasciando solo la posta finanziaria, come per dire vi diamo un contributo straordinario, questo non è quello che noi abbiamo chiesto. Non è il nostro atteggiamento, non vogliamo concepire così la trattativa col governo, quindi su questo noi continueremo invece a fare una battaglia giusta, e devo dire che i comuni hanno avuto una straordinaria risposta. Non solo hanno avuto il fondo, ma hanno avuto anche l'aumento del fondo. L'hanno avuto, passando da 200 euro ad abitanti a 300 euro ad abitanti, con un allungamento dei tempi di restituzione significativo, quindi diciamo il problema ai comuni si è risolto, sia bene che si precisi, i comuni hanno risolto i loro problemi, molto di più di quello che pensavano all'inizio di una loro trattativa. La verità è che i comuni hanno avuto e hanno fatto la loro trattativa politica, e hanno raggiunto l'obiettivo, le regioni non sono state in grado di raggiungere lo stesso obiettivo. Ed è un tema che io ho posto a Vasquerrani come Campania, come prioritaria. Cioè la Campania o vince questa battaglia o deciderà di uscire dalla conferenza delle regioni. Perché non è più possibile continuare con un atteggiamento di questo genere quando si chiedono misure virtuose. Le regioni oggi, devo dire, purtroppo, e mi dispiace perché tra l'altro so che ho anche qualche problema, diciamo, quindi non voglio andare sulle persone, ma non c'è dubbio nessuno pensa alle regioni. Noi chiediamo un ministro delle regioni che sia più attento alle regioni. Perché i comuni hanno avuto la tutela del ministero dell'interno, che gli ha costruito il fondo, gliel'ha scritto, e il ministero dell'economia ha dovuto accettare un ministero che è stato, il ministero di vigilanza ai comuni, e che ha tutelato i comuni. Le regioni non sono tutelate. Non lo sono sulla sanità, non lo sono sul TPL. Permettetici, la regione Campania non lo è. Quando fa i sacrifici, fa un piano di stabilizzazione, ha fatto già quello che i comuni devono ancora fare, cioè il predissesto. Noi abbiamo già fatto una misura uguale al predissesto. Chiediamo uno strumento e non ci viene dato. Perché il governo? Uno credo per ragioni politiche, l'ho detto all'inizio. Quindi, si è accettato di fare un accordo con i comuni, è una scelta del governo, che parte rispetto, ma non condivido. Quindi io penso che invece le regioni debbano avere lo stesso peso nella filiera istituzionale unica. Se la rompi, il sistema non sta in piedi. Alla fine crolla, da una parte crolla. Perché se tu non tieni tutte le colonne di un edificio, puoi chiedere sacrificio a tutti. Ecco, la cosa che bisognerebbe chiedere è il rigore a tutti. Però, noto che quando alle regioni si chiede rigore, noi l'abbiamo fatto. Cioè, noi abbiamo fatto i compiti a casa. Già li abbiamo fatti. E chiediamo gli strumenti che non ci vengono dati. Poi vengono dati invece, e io sono felice per questo, sia ben chiaro, bene che sia stata data ai comuni, ma deve essere data anche la regione. A chi i compiti a casa li deve ancora fare? Questo è il paradosso. Cioè, gli si dà i soldi se fanno i compiti a casa. Ma li devono fare. Chi li ha già fatti con noi da un anno? E non è che li abbiamo fatti perché li abbiamo detto noi. Perché il governo ci ha detto che li abbiamo fatti. E ci ha firmato il piano. E ho avuto il piano firmato dal governo. Dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Economia. Quindi vuol dire che i compiti a casa li abbiamo fatti. E allora, come rispondiamo? Con questa cosa assurda che si è fatta in Parlamento l'altra sera, dove i parlamentari hanno fatto una giusta battaglia. E nella notte, come capita spesso, durante la notte, è stato ripresentato l'emendamento riformulato, dove è sparito il fondo di rotazione, sono rimaste la posta finanziaria. Ma dico, una volta che c'è la posta finanziaria, che è la cosa più difficile da trovare, perché non attivare il fondo? E così è una tantum. Sarebbe una tantum, ma è un approccio che la campagna non vuole. non chiede, non siamo postulanti, chiediamo uno strumento efficace di politica economica e di risanamento della finanza pubblica regionale. Che è stato dato? Il Governo ha detto che è giusto, perché lo ha scritto per i comuni. Bene, se il Governo lo condivide, e allora? Dov'è la risposta? La risposta non c'è. Grazie.